Buongiorno Presidente, un'onore. Buongiorno Presidente, è un piacere a portarmi a tutti. Grazie. Troverei gli auguri. Assolutamente, tanta passione. C'è un riconoscimento anche nei confronti non solo dei nostri imprenditori che sono sempre pronti di chi ci lavora, perché hanno veramente tanta passione, mettono tanto impegno e dunque sicuramente la sua visita da noi ma soprattutto anche a loro è una grandissima forma. fare un nuovo lavoro, è molto più grande. Sì, 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 qui proprio è venuto, avrà visto dove il lavoro c'è. Qui abbiamo una operatrice. Buongiorno. Volevo ringraziarla in nome di tutti i miei colleghi, per noi è un onore, è un privilegio poterle mostrare quello che è il nostro lavoro. Io mi occupo di montaggio e collaudo di servocomandi idraulici, questo è un pezzo del finito e verrà un po' installato in cabine e verrà utilizzato su macchine di movimento terra, di costruzione di agricole. Complimenti il vostro lavoro. Grazie mille. Grazie. Grazie a lei. Grazie mille. Grazie. Per esempio, prima ho parlato di ponca ingranati, questo è il corpo di partenza e questo è il prodotto finito, cioè il corpo finito, dopo ci mancano gli accessori per far funzionare. Mette a paletto posto per accogliere. Buongiorno. 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 Grazie. Buongiorno. 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 Grazie. Buongiorno. 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 È un onore, veramente, grazie, auguri, grazie mille, grazie, grazie, grazie. Presidente, mi permetto di donare questo aceto passamico di 70 anni, perché io sono figlio di contadini, l'ho trattata con mio padre fino a 20 anni, poi nell'80 ho aperto e nell'80, 5 amici, oggi siamo in 1200 e in questa chiavetta USB c'è la storia della nostra azienda e i nostri sogni futuri. La ringrazio molto, grazie, complimenti. E valorizziamo la montagna come nostra missione.